In questa messa in scena è protagonista il rapporto totale, totalizzante di questa giovanissima Daphne con la natura. La natura viene espressa solo attraverso un elemento che è quello del freddo, della neve, del gelo. Daphne riceve tutto questo senza protezione. Si direbbe che si espone al freddo come ci si espone a un fuoco. Questo è l'ambiente in cui Daphne si immerge, ma anche si offre, espone la propria carne, il proprio essere a questo freddo indicibile, un freddo che brucia, un freddo che la ucciderà.